Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi siamo con BZH05 E oggi siamo su Pixagan Vedi? Si, è un gioco bellissimo che ci giocavo una volta ed è proprio bellissimo Ma quello che ci ne dava di più sono io Perché mi ricordo le mattinate passate a farmare monete E comunque ragazzi Io ci gioco da praticamente una settimana e ho già un casino di armi Cioè si ho un casino di armi ma non vuole dire che siano anche potenti Guarda la prototype Allora ho la Heavy Shotgun, poi questa che ho trovato nella LAM Poi questa che mi sono comprato e che non avrei dovuto comprare perché non uso mai Ma se non la usi mai Io la usavo Si ok Io la usavo tempo fa Ammazzavo chiunque Però adesso cominciamo a usare Ora l'hanno depotenziata Cioè il raggio è molto minore Cioè io Praticamente devi stargli addosso al nemico Vabbè Tanto io uso lo stile Poi ho l'Electromagnetic Cannon che è forte Se ti colpisce ti sciotta Però Se ti colpisce ti sciotta Però Però Deve colpirti Perché hai dei proiettivi che praticamente fanno cagare il cazzo Sono lenti come non so cosa tua nonna Ma ho visto ma non sono lenti eh Veramente Secondo me è buona come Anna Perché mi hai detto che Però nell'Arena è buona Ma hai la prototype che ti ho detto Cioè la prototype è forte Io la uso H2 L'ho L'ho anche visto Un sacco di volte Io Io Non vedo che voi purtroppo non avete potuto vedere Per errore di editing Perché lui non riusciva a caricare un video così Anche perché forse perché era di 20 minuti E non ci stava manco su YouTube Facciamo premium e poi facciamo subito una battaglia Ecco E poi ragazzi mi sono praticamente comprato questa A 105 gemme ma mi sembra un acquisto ottimo Dato che è potentissima Poi mi ho anche comprato questo Che sinceramente mi faceva cagare Quindi non lo so per l'Arena Ecco Ragazzi Quindi Praticamente Nel clan Nel clan C'è BlackBandTG Sono amico con appunto Bizetta Sì guardate Che Praticamente Madonna L'armatura di Adamantio No non è Adamantio È un mino 2 Ah ok Praticamente È in lega Adamantio Con l'armatura di Rubino Madonna E il cappello fiammeggiante Quello lì Sì l'ho comprato Cioè se ti faccio girare Le fiamme sono tutte Esplodono Dai facciamo subito E ha vinto 300 partite Madonna Ragazzi sono stato Campione del mondo Di sto gioco Oh Sono stato nel 2014 Una serata dove dovevo andare a mangiare la pizza C'è giocato un po' Ho vinto il premio di giocatore della settimana Vabbè però guarda Quindi significa Campione Però guarda Distrojanjuan primo nei livelli 17 e 21 Non è niente male Io sono stato primo nei miei livelli I livelli ma visto che i miei livelli sono i miei livelli sono i miei livelli Mi metto il tronco Sì Sì perché Eh Allora Create A te piace Ok Allora Lo amo come se fosse Ehm Io E lo chiamo you die E poi ti piace il nuovo font che hanno messo Meno pixeloso Ehm Ok Ok Ha dato la sua risposta In qualche modo la data Adesso sì Adesso entra nella mappa così ci Ci ammazziamo male A me non piace più questa cosa che non è più pixeloso Perché non è più come i bei tempi Nel 2014 Quando io giocavo Peccato che non si possa cambiare font Cioè pensa se potesse cambiare font sarebbe più bello Ragazzi No No Ok ragazzi siamo nella mappa Password l'ho già capita perché lo scritta io No E ragazzi oltretutto inoltre io ho jetpack e ragazzi E ti voglio uccidere perché hai quel jetpack Io ho anche il match Comunque ricordati che sono stato io a ucciderti per la prima volta Quindi Ok Quindi Io sono il più forte ovviamente Ok Perché Non mi ammazzare Perché se no ti ammazzo io Ok peta dove sei A picchiarti Ah 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 ok Allora Madonna quanto toglie la prototype 2 Cioè la prototype mi ha disciottato il match Mi hai lasciato un più Eh cosa Mi hai lasciato un più Eh la madonna Ok adesso Quest'arma è davvero forte nel senso che sia i colpi forti però Non è forte nel senso che non Non c'è Beh St'ammazzo il leone Ecco Allora Questo Allora Match Ecco Match 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 Io non lo match Perché io Ciao Cioè lui non lo match Dai 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 Mi Che è più ammazzato Quindi Se ora continui Se ora continui Se ora continui Se in questo Se Continuassi Così Che mazzo Potrei vincere Però non è possibile No Mi sono fatto vedere No Non sei pezzo di schifo Super silenzio perché c'è Devo mirare bene La tua testa E non mi sta bene Cioè io ho mirato la tua testa Non mi co Eh la madonna La 2 è potente E' up 1 questa Ah Up 1 Up 1 L'ho upgradeata con le gemme L'ho upgradeata con Il grano Ma Una Ma cos'è E' E' Guarda E' Ma Non mai ammazzà le ultime parole famose oh che bello ti ha ammazzato la sensazione di ammazzare un campione una volta almeno lo scorso video era tipo arrivato che tipo mi aveva ammazzato io lo avevo ammazzato una volta addirittura e lui mi aveva ammazzato tipo 14 volte quindi oh ti ha colpito hai visto quanto danno fa ma tu non mi hai battuto tra 4 mi spiace rimango così guarda manco scrivo il tasto di spawn ho vinto ciao 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 youtube sono il migliore io il migliore PZH05 facciamo la rivincita si si team 1 tu team 1 team 1 ok allora ora c'è ora tipo te la cucino eh la madonna subito allora subito allora ti subitizzo anch'io con il match to eh dai ma ci colpisci colpisci almeno una volta vabbè però tu non riesci a colpire oh ti ho ammazzato ti ho ammazzato io io ho visto io cazzo ma non mi colpisci vabbè ti lancio le granate che tanto il tuo pet mi farà fuori malissimo appunto ok 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 allora sto jetpack oh ti ho visto ti ho visto jetpack è morice no ti lancio che è possibile ti lancio col canone elettromagnetico allo dai no mi hai aiutato a identificarti grazie dai colpisci cannone una volta dammi sta soddisfazione almeno fosse homing missiles dico cioè almeno avesse i missili vabbè dai guarda ecco dai dai madonna oh sì che bello tamatt t'ho fucilato male ma guarda che cioè poi come fa il match a sanguigni ma non è ancora il momento di cominciare ma poi io ho bleeding come fa il match a sanguignare cioè sto ancora no no eh per sto lagrando ok allora non è ancora il momento di cominciare a battere a battermi perché tu non mi puoi battere se perché tu non mi puoi battere perché se tu mi batti io ti batti che cavolo aspetta aspetta se perché tu non mi puoi battere ehm perché se tu mi do batti tu hai battuto uno che è livello 27 ehm e sto facendo un discorso veramente insensato sto crashando come lo schifo no sul tuo tablet praticamente c'è cioè ti aspetto 2 0 2 sto facendo da un minuto guarda guarda ora ho fatto un esperimento c'è lancio con la prototipi dentro questo fermati un attimo sto tornando c'è ora lancio con tutte le granate che posso dentro qua cioè che ma ma le granate qua esplodono ok boh metto metto questa che ha il mirino ok come la famosa password no col tiz ti saluto anche allora e e io metto bel gris allora ecco boh io mi metto il match no no se lo fai tiz ok tiz e tibudis abbiamo fatto anche la difesa dai ok allora what for the next match tu join aspetta qualche minuto però abbiamo fatto un pareggio no in realtà mi hai battuto perché perché tu hai più punti no io non ho punti no guarda aspetta ah no si giusto fare non calcolano con i punti ahi perché io sono abituato ai tornei ok comunque ragazzi si adesso possiamo concluderlo il video cioè si hai ragione ragazzi perché se no vi annoiereste cioè lo scorso video vabbè pubblicità classiche di tutti i giochi giochi che censuriamo ovviamente questo gioco si chiama Clash Rotam Clash Royale comunque ragazzi ragazzi io spero che questa serie vi piaccia se volete se mettete dislike vi itzo anche sto qua vi itza se io non ci sono vi itziamo in due vi itziamo in due se vi venite itzati in due e poi comunque ragazzi se vi piace la serie mettete like e scrivete un commento soprattutto entrate in questo plan che potete vedere che si chiama Black Band se avete anche voi ovviamente Pixel Gun ok aspetta ok no vabbè comunque ragazzi con questo si conclude il video spero che questo video vi sia piaciuto un saluto da Dishwanchuan e te fu un cilo mi ti attaccano 5 e con questo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti